Roma Questa signora che rientra a casa costeggiando il muro dell'antico palazzetto Patrizio è un'attrice romana, Anna Magnani, che potrebbe essere anche un po' il simbolo della città. Che so io? Una Roma vista come lupa e vestale, aristocratica e stracciona, tetra, buffonesca, potrei continuare fino a domattina. Federì, va a dormire, va. Posso farti una domanda? No, non me fido, ciao. Buonanotte.